Ciao carissimi amici, amiche, bentrovati, siamo qui come sempre martedì e giovedì per pregare insieme per tutte le persone che portiamo nel cuore, giovedì in modo particolare però c'è un ricordo per le persone ammalate, per chi soffre nel corpo e nello spirito e quindi preghiamo affidando tutte le persone, soprattutto quelle a noi care, quelle della nostra comunità quelle che ci avete affidato anche scrivendo qui accanto nei commenti preghiamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In questa decina del rosario meditiamo Gesù che viene incoronato di spine, un momento di silenzio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto hai frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E preghiamo ancora un Pater Ave Gloria, ricordiamo il nostro Papa Francesco, preghiamo come sempre per tutta la Chiesa e per la nostra comunità, per ciascuno di noi, per le persone che si sono affidate alle nostre preghiere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto hai frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ricordiamo i nostri cari defunti e anche tutti i defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen L'eterno riposo dona a loro Signore Splenda ad essi la luce perpetua Riposino in pace Amen L'eterno riposo dona a loro Signore Splenda ad essi la luce perpetua Riposino in pace Amen E adesso la benedizione per te e per le persone per cui insieme abbiamo pregato il Signore sia con voi Vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo Amen Io vi abbraccio e ti ringrazio per aver dedicato questo tempo alla preghiera qui tutti insieme con la nostra comunità questo appuntamento durante la settimana per chi può, per essere tutti insieme nello stesso momento uniti a pregare grazie di cuore allora un carissimo saluto buonanotte un buon proseguimento quando vi collegherete a questa preghiera ciao ciao e abbi cura di te grazie a tutti